La stoperazione dei carabinieri di Torre Annunziata che nella notte hanno eseguito 28 ordinanze di custodia cautelare in carcere tra Campania, Emilia e Lombardia per personaggi in collegamento con il clan di Gioia di Torre del Greco. Gli arrestati, secondo le indagini degli uomini dell'arma, sono responsabili di importazione di droga dalla Spagna ed accusati di gestire le piazze di spaccio a Bosco Reale, Benevento, Pavia e Modena. L'operazione condotta dai carabinieri e coordinata dalla DDA Partenopea ha assestato un duro colpo al traffico internazionale di stupefacenti, in maniera particolare di cocaina ed hashish, i cui rifornimenti venivano poi smerciati sul territorio regionale. Durante le indagini i carabinieri sono riusciti a delineare il ruolo di tutti e 28 gli arrestati con i relativi incarichi nell'organizzazione e nella gestione della droga che arrivava dall'estero.